messi o intanto napoli e penso sia la macedonia la macedonia allora vediamo un po tutti bene tutti bene la sua persona gioca messi o ronaldo messi fra per me sempre messi sempre messi mi dispiace per tutti i tifosi di ronaldo per me sempre messi comunque ragazzi estremo rispetto estremo rispetto per questo avversario perché gioca con tutti i giocatori macedoni ragazzi sono tutti i giocatori macedoni porca troia e io ho molta 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 paura di questi di questi ragazzi questi avversari perché potrebbero essere veramente fortissimi perché per giocare con questa squadra e comunque scalare la classifica io so bene quanto è difficile e quindi veramente estremo rispetto ragazzi macedonia reale macedonia reale ragazzi comunque comunque lukaku vada buongiorno palla per mattia solivera che alza il pallone per mazzocchi la gira per caraschelia subito dentro per pasquale mazzocchi che scende mazzocchi driva mazzocchi entra in area mazzocchi non ci riesce attenzione attenzione provano ad andare loro mazzocchi dentro per lukaku la palla non passa attenzione qua buongiorno attaccano loro con kolavski qua come cazzo si chiama attenzione prova a tornare olivera ci riesce attenzione palla dentro buongiorno la mette fuori la porta buongiorno allarga malissimo per mazzocchi purtroppo lobot carico per la palla va dentro da lukaku che può portare un po' palla lukaku c'ha un po' di spazio lukaku prova col destro andare dall'altro lato mamma mia anche sa palla dentro e mazzocchi che l'appoggia con la schelia prova ad andare in controtempo niente da fare prima parata del portiere attenzione provano a ripartire loro in contropiede mazzocchi ripiego olivera va a vuoto attenzione buongiorno adesso arriva anghissà poi fallo penso fallo di su anghissà ma dai sono i due ciao antonino ciao antonino intanto meret cercherà eccolo lì romero lukaku prova a prendere posizione lukaku la gira per maradona una palla per anghissà che la alza per mazzocchi gran palla di anghissà per mazzocchi che cross in mezzo maradona non riesce a tirare buongiorno prova a metterla fuori non ci riesce olivera palla per mazzocchi vada quara schelia si gira quara schelia se ne va quara 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 schelia dietro per lukaku 1-0 1-0 romero lukaku si gira bene quara schelia e lukaku la mette dentro 1-0 passiamo noi bel break di olivera poi gran giocata mazzocchi quara e lukaku raccmani tacco per buongiorno che prova ad allargare malissimo buongiorno che cazzo ho combinato qua ragazzi buongiorno prova ad andare in chiusura bronziorno la mette fuori lukaku che sta succedendo ragazzi in questi passaggi no raga il gol ho subito ciao raffaele grazie per essere passato no raga il gol ho subito 1-1 come va per essere in divisione? allora ma sta andando maluccio subito questo gol assurdo questo momento lo sto cercando di inventarmi qualcosa fuori gioco di mazzocchi sono sotto i 1.400 punti sono tipo 1.380 comunque pareggio allucinante provano a rilanciare lungo loro qua con raccmani che l'appoggia a meretta che rilancia lungo alex meretta maradona prova a staccare non ci riesce palla dentro qui mazzocchi raccmani palla per mazzocchi vada maradona vada quara si gira quara schella dentro per maradona che non riesce a tenere il corpo a corpo qui rilanciano lungo loro palla dentro raccmani anghissa lo botca niente da fare di lorenzo palla dentro raccmani anghissa un po' sfortunato qui di lorenzo lo botca eh attenzione dobbiamo ricominciare a costruire in maniera decente però di lorenzo recupera palla di lorenzo allarga per lukaku che la tiene dentro lukaku scende romelo lukaku vede ma perchè sto passaggio di merda che voglio andare a mazzocchi che sta solo la seconda volta che mazzocchi è solo non riesco a passargli la palla anghissa palla per mazzocchi non riesce ad andare sulla palla pasquale mazzocchi prova a rientrare mazzocchi alla grande la dà adesso a quara schella che prova a correre quara schella pallo laterale per noi attenzione qua la schella vada mazzocchi mazzocchi la tiene lì mazzocchi dentro la perde pasquale olivera ancora dentro per mazzocchi ma non riesco a passare qui olivera prova a anghissare con le palla va dentro da maradona dietro per lukaku di prima lukaku ancora romelo lukaku doppietto per lui ancora romelo lukaku 2 a 1 maradona provano ad andare dentro loro olivera staccare anghissà dentro sbaglia zammanghissà prova a recuperare alza anghissà caraschella dentro per diego maradona scende diego 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 prova a far fare tripletta lukaku romelo lukaku tripletta si porta il pallone a casa grazie fra grazie grazie attenzione lukaku palla dentro raccmani di lorenzo lo botca la mette lunga ancora per lukaku che prova a restituire il favore a maradona che però praticamente la ridà un po' male purtroppo un po' male purtroppo anghissà lo botca buongiorno prova a recuperare se ne va qui kolakovski ma torna olivera no invece no minchia che cazzo stava facendo 3 a 1 siamo ancora avanti mamma meret lancio lungo di meret con lukaku che la mette giù maradona 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 dentro per mazzocchi rientra mazzocchi mazzocchi la parata del portiere quaraschelia prova a tenere palla lì se la porta fuori rilancio lungo anghissà quaraschelia di tacco fuori gioco credente grazie grazie vabbè figurati la fede è fede va bene qualsiasi fede diciamo ci sta mi fa piacere che ti piacciono i contenuti a prescindere questo è un diciamo è un bel segnale per me al di là della fede calcistica che uno può avere poi sono tanti ragazzi che ti fanno altre squadre che mi seguono quindi l'importante è che magari uno si diverte insieme insomma che facciamo due chiacchiere magari la sera mentre gioco se fatti qua ci scambiamo idee opinioni poi ognuno ti fa quello che gli pare come giusto che sia voglio attenzione qua dobbiamo stare attenti grandissimo finisce il primo tempo 3 a 1 per noi doppia eh doppia tripletta di Romero Lukaku bene così per il momento contro un avversario di tutto rispetto ragazzi io gioco con Napoli originale a parte Maradona chiaramente ma lui gioca con tutti i giocatori macedoni che è un qualcosa di allucinante dal mio punto di vista allucinante comunque di Lorenzo palla per Lukaku vede dentro Maradona attenzione Maradona Maradona dietro per Quaraschelia che deve solo appoggiarla ragazzi qui c'è Quaraschelia che prova a non perdere il treno dei primi due anche se Maradona a livello di goal è veramente lontanissimo al momento rispetto a Quara e Lukaku riparte si prende la palla ancora Lukaku Maradona sbaglia tutto Diego attenzione Mazzocchi qua 4 a 1 comunque ragazzi Olivera palla dentro per Quaraschelia la appoggia per Maradona Maradona dentro per Lukaku si gira Lukaku vede arrivare Lobotka 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 ragazzi 5 a 1 segna anche Lobo segna anche Lobo eh ma tra poco gli faccio i cambi se lui non abbandona prima palla dentro attenzione inghissa vanno dentro loro attenzione grande giocata eh cazzo gran goal ragazzi 5 a 2 gran goal buongiorno palla per Di Lorenzo vada Rachmani buongiorno ancora sbaglia buongiorno attenzione qua Alessandro buongiorno palla dentro ma oh ma che cazzo sbaglia il passaggio malcalibrato ragazzi ragazzi che cazzo sta succedendo un errore che a questi livelli di solito non si fa era lì a due passi dal bersaglio dovrebbe ricordarsi che i difensori avversari hanno nell'altezza uno dei loro calcio d'angolo per loro attenzione vanno dentro proviamo a metterla fuori c'è Quaraschelia che prova a buttarla verso Mazzocchi vada Lukaku Lukaku dentro per Lobotka che prova a portare palla non ci riesce facciamo dei cambi appena possibile attenzione Olivera Mazzocchi scende Mazzocchi vada Lobotka Maradona Lukaku dentro per Quaraschelia che cerca Maradona niente da fare attenzione rilancio lungo Mazzocchi prova a rientrare Lobotka Olivera poggia Meretta che rilancia che rilancia lungo Quara prova a staccare non ci riesce ecco ho sbagliato io grande Rachmani Lobotka appoggia per Lukaku si gira Lukaku dentro per Lobotka va dentro da Lukaku appoggia a Maradona vada Quara per poco non passa questa palla Olivera prova ad andare in chiusura Mazzocchi Mazzocchi anghissà Olivera scende sbagliato deve andare da Maradona attenzione buongiorno anghissà accmani di Lorenzo chiuso wow non è passato chi lo ha meretta mamma mia stiamo rischiando troppo ragazzi però non mi piace proprio Mazzocchi deve scendere Mazzocchi cerca dentro Maradona Maradona si gira Diego Maradona prova ad andare da Lobotka stiamo giocando malino di Lorenzo palla per Lobotka cerca dentro Lukaku che l'appoggia dall'altro lato per Quara Schelia entra a fare Rakmani Lobotka palla per Lukaku dentro per Maradona prova ad andare attenzione Rakmani sbaglia tutta Mir vanno dentro loro buongiorno Olivera dentro per Mazzocchi cerca Quara Schelia si gira Quara va dentro da Maradona la palla non passa Lobo palla per Lukaku Lobotka ancora per Maradona porta confusione non esce mai la palla ragazzi a fare i cambi Anghissa Lobotka Anghissa Lobotka ancora Lobotka prova ad andare dentro a Lukaku niente da fare attenzione Lukaku Lorenzo Anghissa Rakmani palla per Di Lorenzo che cerca l'1-2 con Lukaku scende Giannino Di Lorenzo cross e mezzo Maradona di testa e questo è un gol fortunosissimo ragazzi di Maradona per il 6-1 vedete sembro far rivedere ragazzi veramente fortunoso gran cross di Di Lorenzo ma qua praticamente il difensore gli la fa sbattere addosso ed è 6-2 facciamo finalmente dei cambi come volevo fare già da un po' dentro Giacomino Raspatori proprio al posto di Maradona fuori Lukaku la mano di Dio insomma ma serio ma serio dentro il Ciolito dentro anche David Neres al posto di Quara perfetto e poi dentro Spinazzola al posto di Mazzocchi e dentro Scott Ectomini al posto di Zambanghissà e va bene così torniamo al match 6-2 per il momento la mano di Dio ennesimo gol di Maradona in questo inizio di stagione spettacolare di Diego Ectomini arriva ai palla attenzione il Ciolito Simeone palla dentro prendiamo un po' a vuoto attenzione Rachmani rilancio lungo Rachmani per Lobotka prova ad allargare Lobotka per il Ciolito che porta palla Simeone Simeone l'appoggia per Raspadori anche con deviazione Giacomino Raspadori segna il suo primo gol stagionale il Ciolito la lascia a Raspa 7-2 ragazzi penso che lui ha veramente una strada durissima davanti a sé intanto ancora Raspadori scende Raspadori Raspadori sbaglia allora non gioca nemmeno male anzi gioca anche bene c'ha delle linee di passaggio dei giochi anche interessanti delle giocate interessanti il problema è che veramente per esempio questo comunque gioca bene il problema è che veramente lui farà una fatica pazzesca a giocare con questa squadra perché le carte sono veramente veramente scarse se le mie siano scarse le sue è proprio è quasi incommentabile purtroppo però potrebbe trovare dovrebbe trovare delle soluzioni se no mi si sbilancia un po' troppo meret palla per Spinazzola scende Spinazzola dentro per Neres vada Raspadori dentro ancora per Neres che porta palla Neres la appoggia Spinazzola che la alza per Neres ragazzi per l'8 a 2 David Neres David Neres oh salvio eh salvio scusami salvio scusami ti apposto come stai attenzione segna anche Neres attenzione Spinazzola recupera palla vada Neres dentro per Giacomino Raspadori porta palla Raspadori l'appoggia a Simeone per il 9 a 2 segna anche il celito ragazzi partita allucinante 9 a 2 una delle vittorie più larghe che abbia mai fatto ma ragazzi l'avversario nonostante tutto merita comunque rispetto Simeone Raspadori dentro per McTominay che prova ad appoggiarla al ciolito Simeone niente da fare rilancio lungo stanno giocando bene e sono anche divertenti da vedere finisce finisce qua 9 a 2 ragazzi partita stramaledettamente piena di goal l'abbiamo stradominata in realtà abbiamo segnato la maggior parte dei tiri in porta che abbiamo fatto e voglio però ripeto al di là di tutto al di là della vittoria larga che ci fa solo piacere ci fa accumulare altri punti voglio veramente veramente guarda gli vorrei mandare un messaggio ma perdere un sacco di tempo perché dovrei farlo tramite playstation o praticamente cioè non ho la tastiera a fare un macello però ragazzi veramente estremo rispetto perché giocare con tutti i giocatori macedoni su questo gioco è veramente difficile cioè io spesso trovo delle difficoltà enormi a giocare solo con i giocatori del Napoli e bene o male sono giocatori forti affermati quindi le carte sono sicuramente molto più scarse sono sicuramente molto più scarse delle leggende delle carte che usano in molti però chiaramente non sono minimamente paragonabili in questo caso per esempio le carte in cui ha giocato quest'ultimo avversario che rispetto alle mie cioè praticamente le mie è come se fossero delle leggende nei suoi confronti quindi cioè mi dispiace anche avergli fatto 9 goal chiaramente per il contenuto e per me è irrispettoso fermarmi l'ho sempre pensato a questa cosa io ho continuato a giocare lui ha continuato a giocare è finita così grazie grazie